Foglio, carta, penna, appunti scritti a mano. Con WPen Plus scrivi, disegni e condividi in cloud, simultaneamente. Ottima per chi scrive tanti appunti. Ideale per chi disegna o cerca lavori da condividere rapidamente. Tutti i tuoi progetti a portata di mano. Archivi e accedi in ogni momento con semplicità, grazie all'app integrata. WPen Plus. Mai alla carta. Un potere digitale. Grazie a tutti.